buonasera buonasera a tutti rieccomi con voi sempre più agguerrito stiamo entrando nel vivo della stagione invernale per molti il freddo non si è visto e effettivamente ottobre è stato davvero molto caldo l'abbiamo ripetuto più volte ma adesso si entra nel vivo ha nevicato anche sull'appennino sono splendide le immagini del del Gran Sasso e della Maiella anche dove eh al di sopra dei mille settecento mille ottocento metri ci sono stati anche eh degli accumuli intorno dieci venti centimetri quindi eh l'inverno diciamo alle alte quote potremmo dire l'inverno ha fatto il suo ingresso adesso la perturbazione che ha generato il maltempo si sta allontanando ma ancora e nei modelli c'è molta vivacità e guardate che cate dietro di me ho già voluto farvene una un po' più elaborata perché è davvero interessante quello che si prospetta eh per il mese di novembre mh a differenza di di quello che ehm sono le ipotesi di molti che vedono già un novembre siccitose caldo non è così ci saranno dei giorni più caldi ora delle belle giornate soprattutto al centro sud poi è vero che un imponente anticiclone prenderà le mosse una struttura di blocco o meglio c'è una mh un anticiclone subtropicale che si andrà rafforzando secondo la didattica meteo procedendo verso le alte latitudini creando una struttura di blocco che però come vi ho detto più volte sarà talmente potente talmente stesa verso nord che lascerà già da subito praticamente filtrare aria fredda dai quadranti nord orientale dal basso piano russo con una prima goccia fredda che eh prenderà le mosse nel weekend nel prossimo weekend e poi e poi c'è volto guardate questo no? Quest'altra qua eccola gioco un po' nucleo gelido dalla Russia ne parliamo adesso fate attenzione seguite fino alla fine questo ehm video perché è molto importante seguire tutti i tasselli perché l'inverno sembra potersi affacciare dopo metà novembre nel Mediterraneo iscrivetevi al canale YouTube fatelo perché eh nessuno qui come me vi sta cercando di descrivere quelle che sono le vere tendenze invernali e eh nessuno nega che abbia fatto tanto caldo finora ma questa rubrica vi dirà sempre quelle che sono le tendenze più affascinanti per l'appassionato meteo di freddo di neve tutto quello che volete eh che portano i che riportano i modelli cliccate la campanellina così vi arrivano le notifiche lo sapete perché in questo modo appena pubblico vi arriva tutto e adesso andiamo a discutere qualcosa di veramente molto interessante seguite passo passo quello quello che diremo allora guardiamo subito questa è la nostra classica carta eh del sito Werther centrale e questa è la situazione attuale eh con il le le isobere a livello del mare quelle della media troposfera ecco 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 guardate la bassa pressione che ci ha interessato finora come si allontana di dodici ore in dodici ore si allontana da noi e arriva questa ansa anticiclonica questo è un primo anticiclone blando che interesserà però il centro sud regalando in questo caso questa che sarà l'estate di San Martino poi che succede? ecco la grande rimonta calda generata da un imponente a fondo freddo in Atlantico parte prende le mosse ma già con questa prima rimonta vedete come punta diciamo il mare nel ciclone una una prima dell'instabilità già sarà presente giovedì nelle regioni italiane poi si afferma questo potente anticiclone tra giovedì venerdì e parte di sabato che punta soprattutto il centro Europa con geopotenziali veramente elevato ma poi eccola qui una goccia fredda qui è vista arrivare al centro sud ma vedrete che il modello europeo l'avete passare su tutte le regioni italiane e anche al nel nord Italia questa è davvero importante stabilire guardate il pulsore questo nucleo questo blocco anticiclonico dove si andrà a collocare perché farà la differenza guardate poi come si estenda verso la Scandinavia e debba lasciare per forza affluire aria veramente gelida meno trenta meno trentacinque a cinquemila metri meno quindici meno venti a mille e cinquecento metri di quota che prende le mosse dal dagli Urali verso l'Europa e qui nel contempo arriva dell'aria fredda molto meno fredda diciamo ma instabile umida atlantica che si danno appuntamento quasi sull'Europa arriva il peggioramento sull'Italia dopo metà mesi arriva il freddo da est le prospettive potrebbero essere molto interessante qui si vede come non entri perfettamente nel mediterraneo l'aria fredda ma come la dinamica atmosferica siano davvero molto interessanti ecco il vortice polare che comunque scende e si si desarticola ne parleremo approfonditamente anche nei prossimi giorni qui vediamo vi faccio subito vedere le temperature a mille cinquecento metri di quota così capirete se arriva davvero il caldo o qualcosa di diverso con instabilità e più fresco nuovo fresco questa è la situazione attuale e diciamo che stamattina Livigno si è svegliato con dieci gradi sotto zero quindi queste temperature che vedete adesso non sono affatto calde poi che succede aumentano le temperature eccolo qua questa è la diciamo la chiamiamo all'estate di San Martino per il centro sud al nord rimangono ancora più fresche poi e quindi beneficeremo fino a venerdì poi che succede ecco qua sabato flusso a flusso freddo dai quadranti nord orientale dai Balcani con temperature che ha oltre all'adriatico meno uno meno due a mille cinquecento metri di quota vuol dire freddo questo questo è freddo non è caldo eccola che sfonda completamente domenica domenica eh non sarà gelo ma comunque temperature uno o due gradi a mille cinquecento metri di quota con instabilità questo vuol dire nuove nevicate sull'appennino anche e poi eccola qua secondo il modello europeo si va a mh centrare diciamo il fresco nella giornata di lunedì quattordici sul sul nord e sul nord ovest zero meno uno a mille cinquecento metri di quota questo vuol dire che siccome ci sarà instabilità nevicherà ancora sulle Alpi occidentali questa volta anche a quote intorno eh se questa carta venisse rispettata settecento ottocento metri di quota quindi avete capito bene tra lunedì domenica e lunedì il tempo farà di nuovo fresco e poi che succede non torna il caldo sono temperature nella media o leggermente sopra quindi cosa cosa sta succedendo avete visto quindi ci saranno fino a venerdì eh farà più caldo anche belle giornate soprattutto al centro sud si starà bene nulla a che vedere a quello che è successo a ottobre perché ottobre è stato veramente anomalo ma poi beh le cose ricominciano a cambiare e ve lo faccio vedere con queste illustrazioni i momenti salienti allora eh sabba venerdì potente anticiclone primo prima tappa eh in questo qui c'è bel tempo in tutta Italia quindi siamo tra venerdì e sabato e un bel anticiclone sulla testa poi goccia fredda che avanza vi voglio far vedere questa goccia fredda come vista dal modello europeo eccolo qua questo è un Rex blocking c'è un vero e proprio blocco c'è una un'alta pressione che non si muove e costringe il flusso atlantico a passare sopra è una bassa pressione che si isola a sud di questa alta pressione è un blocco eh ben noto in letteratura meteorologica e quindi queste per tra domeniche e lunedì come vi ho fatto vedere guardate dove lo vede centrato proprio sull'Italia a bassa pressione quindi tra domeniche lunedì instabilità fresco e nevicate sulle cime appenniniche e sulle Alpi anche a quote medie totalmente eh alta collina addirittura quindi seguita questa previsione perché quello che ho detto finora alla fine si è avverato nonostante i lunghi periodi caldi per carità ma le previsioni che riguardavano il fresco eh e le le precipitazioni si sono avverate e poi questa carta fantastica che vi ho illustrato prima nucleo gelito guardate qui e questo è un nucleo veramente freddo questo porterebbe il gelo ma ancora si mantiene a una certa distanza ma è visto avvicinarsi molto anche dal modello europeo se vogliamo e poi Atlanti con interazione Atlanti continentale facciamo attenzione che qui con una carta del genere basta poco per far scaturire un evento dopo la metà di novembre quindi seguiamolo con attenzione questa evoluzione con le prossime emissioni dei modelli mi raccomando allora vi ho detto tutto e quanto mai interessante quello che sta per accadere da ora in poi seguite attentamente perché le cose entrano nel vivo eh non ascoltate chi vi dirà che novembre dicembre sarà secco caldo siccitoso quindi eh caldo e siccitoso con temperatura sopra media perché c'è molta dinamicità iniziamo dal prossimo weekend e poi vediamo un abbraccio a tutti da Meteoscienza eh seguite sempre mi raccomando sempre di più grazie a tutti eh grazie per la grande partecipazione ma possiamo essere sempre di più ciao a tutti a presto